La partenza è valida, con Rumor Room che va al comando ma poi sbaglia, parte forte Raissa Sere così come Rostro PV e Rapunzel, sono in tre su una linea per il comando con Rostro PV che va su Raissa Sere mentre Rapunzel si ritrae, quando sono passati i 200 metri di corsa, Raissa Sere e Rostro alle prese, con Rostro PV che vuole insistere per passare su Raissa Sere, operazione che adesso sta riuscendo a Giampaolo Minucci. Cavalli dopo 500 metri con il favorito al comando Rostro PV nei confronti di Raissa Sere, poi Rapunzel davanti al numero 1 Roger Benal, poi al 5 Ranger Wood SM. Cavalli che transitano sulla curva quando passano i primi 600 con un parziale adesso lento. Rostro PV oggi al comando Giampaolo Minucci, dopo l'ottima sgambatura è riuscito a sfilare mentre dalle retrovie è sposta a Ranger Wood SM, contrato da Rapunzel. Si va molto piano, 33.8 per questi 400 metri, la corsa è lunga e così il battistrada cerca di rallentare. Adesso sposta Rapunzel che va a movimentare la corsa. Rostro PV dopo i primi 1100 transitati da 1.29 è sempre battistrada con Rapunzel che dà però un parziale sulla retta apposta alle tribune. adesso Rostro deve reagire, Raissa Sere lì sotto sul parziale perde un po' Roger Benal all'esterno c'è Ranger Wood, parziale in 15.6, sempre alle prese. Rostro con Rapunzel, poi Ranger Wood adesso più convintamente in schiena, Raissa Sere lì sotto quando i cavalli transitano adesso ai 600 finali. un parziale sulla curva in 15.5 per Rostro PV che è sempre battistrada sulle diretture Rapunzel è più minaccioso, anche se ha qualche problema venendo un po' in giù. E adesso si va ai 400 metri finali. 15.1 per questo paletto, sposta Ranger Wood SM adesso in terza ruota, credendo sui problemi di Rapunzel, Rostro PV comunque sempre al comando. lungo l'ha steccato, Raissa Sere, Roger Wood SM minaccioso a largo, con Rostro PV al comando e Ranger Wood che prova ad andarci, sbaglia Rapunzel, Rostro PV al comando, Ranger Wood SM che va a spingere, Rostro e Ranger Wood, i due in linea, con Rostro che si difende ancora, Ranger Wood SM che spinge a largo, i due arrivano assieme. Purtroppo è saltata l'immagine proprio sul palo, ma adesso rivedremo il replay cercando di decifrare meglio la situazione anche capendo l'inerzia della cosa. Vedete, siamo andati a nero e non lo sapremo da questo replay. l'impressione che il 5 stesse rimontando il 7, però qui siamo in attesa del photo finish.